Siamo raccontando a casa un risultato certamente negativo per i francesi e in qualche modo ancora giocabile. Sì, che potrebbe essere sicuramente peggio. Assolutamente. Però 2-0, esatto. 2-0 è pesantissimo. Non è che non possiamo ricordare che questo risultato è veramente favorevole. Finisce qui. E' un risultato favorevole 2-0 per la squadra di Santi. Ci fermiamo solo in un rando, ma è subito l'intervista col prezzo. In tanto, non ci sono. E' una punta l'intervista. Un maschio.